L'Italia è fuori dei mondiali. Ha perso questa sera contro la Macedonia 1-0. Grandissimo gol da parte del giocatore della Macedonia. Quindi per la seconda volta consecutiva l'Italia è fuori dei mondiali? Ma andate tutti a quel paese. Cosa fa l'Italia? Vince l'europeo per poi perdere 1-0 contro la Macedonia prima di partecipare ai mondiali? Non partecipano ai mondiali l'Italia. L'Italia che non partecipe ai mondiali. Possiamo finalmente ufficializzare che è una cosa vergognosa, vergognosa e vergognosa e umiliante. I giocatori italiani non lo fanno per l'amore per i tifosi, ma lo fanno soltanto per una cosa, per i soldi. Anche se perdono, i soldi li guadagnano lo stesso e quindi loro non se ne fregano niente se vincono o perdono. Ed è soltanto una vergogna anche per l'Italia. Intendo per la nazionale italiana. Nazionale italiana perde un a zero contro la Macedonia, giusto così. È una vergogna.